Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso per questioni di normative e non di merito, e questo va precisato, non di merito ma ha fatto solo un normativo, che gli atti vanno riproposti, vanno rifatti per poter poi eventualmente mettere in moto quella che è la fusione per incorporazione. Nell'ambito delle procedure che riguardano i quattro comuni, che hanno lo stesso interprocedurale, che hanno adottato le stesse identiche disposizioni, imposte dalla Regione Marche, ci saranno i due comuni, Monbaroccio e Pesaro, i quali dovranno rinviare il tutto di qualche mese per poi arrivare di nuovo all'obiettivo, mentre invece nell'ambito della stessa provincia, Urbina e Tavoletto, quasi certamente potranno tranquillamente con lo stesso procedimento e con la stessa legge invece fare la fusione per incorporazione, e questa è una cosa evidentemente un po' particolare, un po' strana, perché è come dire che se uno va e cento all'ora gli fanno la contravenzione, all'altro la contravenzione non la fanno, ma io, se è ben chiaro, sono particolarmente contento che invece i due comuni vicini, Tavoletto e Urbino, riescano effettivamente a farla questa fusione per incorporazione, perché comporta per i comuni un beneficio notevolissimo, un beneficio che noi al momento perdiamo, perché si sposterà il tutto, quantomeno di un esercizio, di un anno, quindi quelli che erano i contributi che potevamo ricevere già nel 2016, e eventualmente si prenderanno l'anno successivo, dovremo evidentemente rinviare tutti quegli investimenti, tutte quelle opere che quelle disponibilità finanziarie ci avrebbero messo in condizione di realizzare, dalla viabilità pubblica, alla scuola materna, al rifacimento dell'arredo urbano e quant'altro, insomma tutto quello che era già nei programmi dovrà necessariamente essere spostato in là di un esercizio. E ci dispiace soprattutto per il fatto che è ai cittadini monbarocesi che non si è fatto un bel regalo, perché togliere queste disponibilità finanziarie a un comune come il nostro, che poteva realizzare tante di quelle infrastrutture, eccetera, non penso che sia proprio il massimo. Però, come si dice, qualcuno potrebbe anche esserne contenti, immagino di no, però insomma ecco questa è la situazione.